It's over, eh capito? No, nessuno, nessuno può dire questo sogno è finito. No, sempre, sempre, sperare, continuare, credere, crederci sempre, crederci sempre, arrendersi mai, lo diceva qualcun altro, Adelaide ha scoperto che la figlia durante una crisi di pianto si calmò con una canzone dei Tears for Fears, lo sguardo era in cerca proprio della musica, della fonte della musica, perché lei glielo faceva sentire quando in realtà era nella panciona, ecco, quindi funzionava, invece per esempio c'è una mamma che dice